La cifra è spaventosa perché tra appartamenti, negozi, terreni, box e posti auto gli immobili sono circa 320. Si tratta di possedimenti ubicati tra Roma e la provincia di Rieti e riconducibili a Mauro Balini. L'uomo, imprenditore capitolino classe 1965, aveva già subito un sequestro di beni con un valore di circa 460 milioni di euro. Stavolta la cifra si aggira sui 50. Ad effettuare il mega blitz sono stati gli uomini del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma con il provvedimento emesso dal Tribunale. L'operazione è stata rinominata ultima spiaggia anche in virtù del fatto che alcuni degli immobili si trovassero ad Ostia, come il noto Residence Porto di Roma, al centro di un anomalo giro di vendite e affitti di rami d'azienda ma per il quale Balini ha sempre mantenuto il dominio. Gli accertamenti hanno consentito di verificare che il Residence Porto di Roma risultasse riferibile allo stesso Balini, noto alle cronache giudiziarie per essere stato coinvolto nel 2015 in indagini della Procura di Roma legate all'associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta, al riciclaggio e all'impegno di proventi illeciti.